Rimarrà aperto fino al 20 settembre il Museo Tribu a Nuoro, una struttura situata in piazza Santa Maria della Neve a fianco della cattedrale che custodisce alcune opere significative di Francesco Ciusa, artista geniale, di valore assoluto, che agì in quella Nuoro che allora si guadagnò per la vivacità culturale e per i giganti che seppe esprimere l'appellativo di Atene Sarda. La struttura, chiusa da otto mesi, è stata riaperta in via eccezionale dall'amministrazione comunale il 22 agosto, in occasione delle festività del Redentore, alla presenza dell'assessore alla cultura Sebastian Cocco. In termini di presenza sta ottenendo un buon successo. Oltre alle opere di Ciusa, lo spazio museale sta ospitando una mostra fotografica sulla festa del Redentore, scatti che restituiscono la Nuoro del primo novecento a beneficio non solo dei turisti ma anche dei nuoresi. La struttura è aperta al mattino dalle 10 alle 13 e dalle 16 e 30 alle 20 e 30. Questo grazie anche all'intervento di alcuni ragazzi del servizio civile. Ma l'obiettivo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Soddu è di restituire il tribu pienamente alla città e al territorio, questo anche attraverso un'apertura permanente col coordinamento con le altre strutture museali della città, dal Museo Manna al Museo del Costume, ma interagendo anche col Museo Nivola di Orani, una rete museale allargata che attiri un numero crescente di visitatori e turisti.